Giornata di test per l'ammissione alla Facoltà di Medicina dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Alla prova della durata di 100 minuti hanno partecipato questa mattina 1.221 studenti provenienti anche da fuori regione. Tensione, paura e speranze per i futuri medici che hanno dovuto rispondere a 60 test attitudinali. 190 i posti disponibili a medicina e chirurgia, 35 a odontoiatria. Oggi è una giornata particolare perché ci sono questi test di ammissione alla vostra facoltà. Come stanno andando le cose? Le cose stanno andando bene, anche meglio del previsto, vista la complessità che il Ministero ha creato per tutelare l'anonimato del candidato. Quindi stiamo raccogliendo i dati proprio in questi minuti, quindi abbiamo soltanto una serie di informazioni che in particolare ci dicono al momento i presenti rispetto all'anno scorso. Ci fanno fare un breve calcolo di quale sia stata la differenza fra l'anno scorso e quest'anno. La differenza è, ahimè, una riduzione del numero dei candidati per motivi diversi di cui si potrebbe disquisire per più di qualche secondo. In cosa consiste il test di questa mattina che stanno sostenendo questi ragazzi? Consiste in una serie di quiz, 60 quiz, con risposta multipla. Lo studente affronta questi quiz per i quali prende un punto e mezzo per la risposta esatta, meno 0,4 per la risposta sbagliata e 0 punti per la risposta non data. Questo per tenere un po' così sotto controllo l'uso del caso, del mettere la croce a caso nel tentativo di azzeccare la domanda. Le griglie vanno al Cineca, il Cineca le corregge, le pubblica e a quel punto ogni candidato potrà verificare, entrando nel sito Universitaly, nel suo sito proprio d'accesso, potrà verificare il proprio risultato.